e per forza non può essere altrimenti e comunque siccome dicevamo cerca ancora una sua identità probabilmente ha cercato anche di cambiare il look sul consiglio del suo coreografo Michael Seibert però probabilmente ancora qualcosa manca anche se a me il ripon di Brian Orser era bellissimo no? allora seguiamo l'altro atleta statunitense in gara Ross Miner quinto a Skate Canada anche lui solo doppio il salgo voleva essere quattro è vero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ross Miner, l'errore è proprio in apertura sul quadruplo, questo quadruplo dà proprio fastidio. Eh sì, questo quadruplo è difficile da affrontare psicologicamente e a volte c'è questa rinuncia interna e qui è successo lo stesso guaio che è successo ad Adam per il triplo Axel. C'è proprio una cosa psicologica anche, la paura di non riuscire a completarlo. Cosa succede? Eh, succede proprio questo. La paura è detto giusto, la paura inevitabilmente c'è perché i pattinatori non sono stupidi, sanno benissimo che quell'elemento è anche quello che fa la differenza. Sanno che magari hanno una percentuale di riuscita in allenamento su quell'elemento facciamo all'80% e non al 100% e quindi è ovvio che si affronta l'elemento magari con un pochettino di ansia e quel minimo di ansia è quello che te lo fa sbagliare. Perché i pattinatori bravi, i fuori classe, devono avere questa certezza di andare lì e farlo, che è assolutamente irrazionale. Ecco. È totalmente irrazionale perché in questo sport dove si gioca su un filo di lama veramente, tu non hai mai la certezza di niente. È un continuo adattamento, la sensazione non è mai la stessa, però la forza, la forza psicologica dei campioni veri che io sento è che prima di scendere in pista glielo leggi negli occhi e lo dicono con le parole che andranno a farlo. Nella loro mente non passa neanche minimamente. Che non possano riuscirci. Esatto, l'idea che possa succedere qualche cosa di contrario. E quelli sono fuori classe veri. Altri invece magari più razionali, più dirigenti, più s'allenano bene e tutto quanto, però all'ultimo gli viene questo mio dubbio e questo è quello che uccide. Allora, 37 e 79, comunque il miglior tecnico finora. 34 e 61 per il presente show score e con 72 e 40 va in prima posizione e va dunque a superare Kevin Reynolds che aveva 70 e 20. 37 e 79 contro i 37 e 06 di Kevin Reynolds per quanto riguarda il tecnico.